È andata benissimo la partita, abbiamo fatto un'ottima gara, poi nel secondo tempo loro si sono alzati tanto e noi ci siamo dovuti un po' abbassare, però abbiamo una condizione fisica ottimale per tenere botta fino alla fine anche con questo caldo. Poi il rigore comunque ci ha dato tre punti che per noi sono come oro. Un rigore che non arrivava da più di un anno, quanto è stato faticoso calciare quella palla? No, c'è il fisioterapista nostro che mi ha detto uno scherzetto, avevi il peso di tutte le nostre famiglie su quel rigore. Diciamo che non era facile perché era tanto che non le calciavamo, però ero abbastanza sicuro di buttare la palla dentro. Ti aspettavi una partita così con la quarta forza del campionato? Sì, perché un po' le nostre caratteristiche mettono in difficoltà queste squadre, perché sono squadre che vengono qui, che vogliono cercare di fare la partita e si sbilanciano. Noi in contropiede li possiamo fare male, quindi più o meno la partita l'abbiamo preparata in questo modo. Ora il Pescara che ha travolto la Ternana, un'altra sfida davvero difficile. Sapevamo che avevamo cinque partite difficilissime da qui alla fine, purtroppo noi ci dobbiamo salvare e ogni partita deve essere una battaglia. Dobbiamo andare a pescare e cercare di fare la nostra partita, sapendo che il Pescara è una squadra importante che lotta anche lei per salvarsi, sicuramente dobbiamo affrontarla col piglio giusto. Grazie.